Anche quest'anno torno all'appuntamento dedicato all'e-commerce in Italia di Casaleggio Associati. In questa quindicesima edizione illustreremo tutti i risultati del rapporto che abbiamo stilato sui dati del 2020, le prospettive del 2021, le attività di consolidamento delle imprese, molte operazioni di M&A da parte di operatori sul mercato che sono in azione per cercare di contrastare da una parte gli operatori stranieri che stanno entrando nel mercato e dall'altra cercando di far fronte alla nuova domanda di milioni di nuove persone che sono entrate in questo mercato da parte della clientela. In questo contesto cercheremo di entrare e di analizzare tutte le strategie per il 2021 assieme a molti ospiti durante la diretta streaming alle 15 del 7 maggio, un appuntamento a cui vi aspetto tutti per discutere assieme di questa nuova evoluzione dell'e-commerce italiano. Sui canali di Casaleggio Associati vi aspetto.